Siamo con Enrico Brignoli, direttore Ovet Viaggi, che ha organizzato una serata molto particolare al Centro Congressi dedicata all'Africa. Ci vuoi raccontare come si è svolta? Sì, innanzitutto direi che è stato un grande successo, c'erano circa 180 persone, quindi abbiamo invitato un po' tutta la nostra clientela e è stato un grande successo, proprio testimoniato da loro a fine serata. Abbiamo presentato due destinazioni dell'Africa, esattamente Sudafrica e Namibia, e poi una destinazione a mare, sempre in Africa, che è Mauritius. L'intento era quello di spiegargli queste destinazioni con delle fotografie in 3D e infatti è stata un'esperienza molto bella, diciamo un'esperienza emozionale, tant'è che si vedevano degli sfondi deserti con questi animali che con il 3D sembrava che uscissero proprio dallo schermo e la gente è veramente apprezzata. È stato un modo per, diciamo così, far vivere da vicino queste bellissime destinazioni. Non solo l'Africa, abbiamo anche altri splendidi location da visitare. Quali sono i prossimi appuntamenti? Faremo sicuramente altre serate dedicate all'Oriente, Australia, gli Stati Uniti d'America, il Messico e il Sud America. Vogliamo pian piano organizzare queste serate per coinvolgere i nostri clienti e fargli vivere da vicino queste destinazioni eccezionali. Un'ultima battuta all'obiettivo di queste serate e a chi sono rivolte? Il lavoro di semplice esenzia di viaggio ormai è abbastanza semplificato, nel senso che la gente non riesce ad apprezzare davanti a un catalogo o qualche foto in internet una destinazione nel profondo. Con queste serate il nostro intento, quello che noi vogliamo fare è coinvolgerli direttamente con degli esperti che trattano direttamente la destinazione. Tantissime volte sono anche persone che vivono direttamente in loco e, essendo qui il centro congressi, è quello di coinvolgere i nostri clienti e farli vivere da vicino come se fossero già in viaggio. Ovviamente sono un piccolo antipasto, diciamo così, poi devono effettivamente partire. Però hanno un grande successo queste serate, come abbiamo visto con la prima e ci teniamo molto a ripeterle perché facciamo già iniziare a viaggiare i nostri clienti.